E ci siamo, buongiorno a tutti dottore e dottoresse, ore 10 e 30 di lunedì 11 marzo, benvenuti qua sul canale di Marco Costanza che oggi si mette agli occhiali, c'è un sole che spacca le pietre, ma ne possiamo anche fare a meno. Come sempre vi ricordo se siete nuovi che lunedì, mercoledì e venerdì facciamo una camminata dei mercati finanziari sia dal punto di vista un po' più macroeconomico tradizionale che poi dal punto di vista proprio di bitcoin e delle news, oggi tenetevi forti perché guardate qua la quantità di news che abbiamo è qualcosa di fuori dal comune, ma soprattutto c'è l'estrazione. Il grande sorteggio perché vi ricordo che grazie a Bing X abbiamo organizzato questo contest dove i partecipanti avrebbero vinto un buono da 25,50 o 75 USDT. Saranno quindi tre i fortunati vincitori che andremo ad estrarre alla fine di questo video, così rimanete fino alla fine oppure schippate fino alla fine del video, però insomma in ogni caso lo faremo alla fine. Bene, giusto per darvi qualche dato così perché mi piace essere totalmente trasparente, nell'ultima settimana sono 23 i traders che si sono registrati, in totale abbiamo fatto tutti insieme, in realtà forse qua non ci sono i miei volumi, ci sono solamente i vostri, mezzo milione di volume di trading. Quindi bravi tutti, ve l'avevo detto che era molto facile fare tanti volumi e mi avete generato, guardate qua, 79 USDT, quindi grazie mille a tutti quanti, adesso con questi 75 euro miglioreremo il canale. Faremo qualcosa, compreremo una nuova videocamera professionale con lenti cinematografiche, vabbè anche meno, anche meno, però insomma grazie mille, grazie mille per, insomma questo è sostegno che aiuta a mantenere questi video gratuiti. Certo, non posso sicuramente andare a comprarmi una casa, però piano piano, piano piano, insomma tutto fa, tutto fa, quindi grazie mille. Allora, io direi di partire dalla finanza tradizionale, fatemi dedicare un quarto d'ora a questa parte qua e poi ci spulciamo le news su bitcoin, anche perché, partiamo subito dal grafico di bitcoin, che se ne dica, siamo qui per lui, vedete che alla fine della fiera insomma non è cambiato niente da quello che abbiamo detto settimana scorsa, e a me non piace ripetere le stesse cose, quindi se volete capire, ma vado longo, vado short, sto fermo, cosa faccio, guardatevi i video di settimana scorsa, ma soprattutto se aspettate la mia opinione per prendere una decisione, rivedete la vostra strategia di trading e di investimento, perché non si fa sulle opinioni altrui, dovete avere una vostra strategia che vi dice già cosa dovete fare. La mia personale opinione è che il livello inizia a diventare molto interessante per un eventuale short, le conformazioni delle candele alla price action è interessante anche per vedere una sorta di storno, personalmente non farò un'operatività short, quindi ve lo dico già, non è una cosa che faccio, perché non mi piace anticipare così troppo i mercati. Soprattutto perché su bitcoin, se guardiamo, ha senso, ma adesso, tolto che nel weekend abbiamo rotto i massimi storici, 70.000 che li abbiamo baciati, li abbiamo appoggiati, 70.000, in realtà comunque lo sappiamo bene che durante il weekend, ora che ormai sono arrivati gli etf che comprano mezzo miliardo, mezzo miliardo al giorno, capite bene che, insomma, l'incisione durante il weekend che i mercati sono chiusi è molto molto piccola di noi retail. Vi volevo far vedere però quello che succede invece a grafici un po' più simili, tra virgolette, come potrebbe essere Ethereum, che anche lui si trova in una zona di resistenza, ma non sui massimi storici, quindi una zona, insomma, anche qua abbastanza importante. Vedete, una, vedete, due, vedete, vabbè, questa forse è un po' troppo sotto, comunque eccoci qua. E anche Solana, Solana che più o meno fa la stessa cosa, si trova in un livello di resistenza molto importante. Quindi ecco, se io dovessi scegliere di shortare, magari shorterei Solana, non bitcoin, anche perché a livello giornaliero vedete che le candele sono più deboli di bitcoin, e quindi, personissima opinione, se proprio dovessi fare, fare un'operazione così. Prima di chiudere però i grafici tradizionali, volevo farvi vedere l'oro, che mi avete visto tenerlo aperto in apertura del video, perché vabbè, qua c'è un'operazione che avevamo fatto totalmente a livello di sport, col conto demo, giusto così, quindi chi se ne frega non calcolatela, sì che stiamo guadagnando, ma insomma, tanto sono soldi finti. Oro che rompe i massimi storici. Cioè, non so se ne abbiamo parlato di questa cosa, cioè, noi non abbiamo parlato, ma non so se ne ha parlato qualcuno, mi sembra di no, non abbia parlato nessuno, a meno nessuno che io seguo, intanto chiudiamo sta roba, mi dà solo fastidio, tanto non ci serve. E porca miseria, cioè, abbiamo visto giusto poco tempo fa che dagli ETF dell'oro stavano uscendo capitali, e adesso però l'oro ci va a rompere i massimi storici. Quindi, curiosa questa cosa, chissà che non siano capitali che hanno fatto tanto con bitcoin e adesso stanno vendendo bitcoin per andare a ricomprarsi l'oro, perché più o meno, diciamo, che potrebbero avere la stessa funzione per un istituzionale, ma con l'oro, che ovviamente è molto meno rischioso, potrebbe essere. Ora, in realtà vi potrei anche dire che magari, visto che adesso si preannuncia un abbassamento di tasse di interesse, allora l'oro diventa di nuovo interessante, però non lo so, non lo so, non so spiegarmi questa rottura dei massimi in questo momento, sa di fatto che l'oro per ora sta facendo bene. E a livello di finanza tradizionale, visto che ci siamo già introdotti nell'argomento, questa è una settimana molto, molto importante. Vedete qui abbiamo l'inflazione in America, quindi, mani in alto, qui c'è da star fermi sui grafici perché non si sa cosa può succedere, e tantissimi altri lead indicator, quindi tantissimi altri dati americani che ci possono dare, insomma, un po' una previsione di quello che deciderà la nostra amica Fed tra nove giorni, dove dovrà tenere fermi probabilmente e alzare o abbassare i tassi di interesse. Se guardate, la cosa è abbastanza curiosa perché allora ormai quelli tra nove giorni sono praticamente certi che si terranno fermi. Anche a maggio siamo abbastanza sicuri che terranno fermi i tassi di interesse, diciamo un 70 contro un 30%, ma la cosa interessante, se noi guardiamo giugno, quello che dicono le previsioni degli analysti è che solamente un 52% prevede che si avrà un primo taglio da 25 punti base, ma la cosa curiosa è che dopo i dati, adesso vi faccio vedere quali, che abbiamo avuto venerdì, queste percentuali sono scese, cioè prima era molto più, diciamo così, prezzato un eventuale taglio di tassi di interesse, dopo i dati è stato prezzato meno, perché da 57 siamo passati a 52, mentre il tenerli fermi siamo passati da 26 a 29, quindi aumentano le probabilità che li teniamo fermi, diminuiscono che li andiamo a tagliare. Ed è una cosa curiosa, perché se noi andiamo a guardare quello che in realtà è uscito nei dati venerdì, non erano dati così negativi, o almeno che facessero presagire una politica un po' più severa, anzi, però come sapete bene, gli analisti scontano, prevedono, fanno i loro calcoli, quindi insomma non c'è mai nulla di troppo certo, ovviamente parliamo di finanza, quindi è per forza che sia così, ma vi voglio far vedere, eccolo qua, abbiamo avuto i non far payroll, che dopo un valore precedente di 353 si prevedevano già a 230, in realtà sono andate a 275, quindi sono state superiori alle aspettative. Cosa vuol dire? Questo in linea con una politica monetaria più restrittiva, perché le buste paga non scendono quanto vorrebbero gli analisti, o almeno quanto avevano previsto gli analisti. Dall'altra parte però, il tasso di disoccupazione che si pensava rimanesse fermo è invece aumentato, dal 3.7 è andato al 3.9, e questo in realtà dovrebbe allentare la politica monetaria, perché più disoccupazione, meno inflazione, meno necessità di tenere i tassi di interesse elevati. Non so però cosa abbia fatto poi propendere gli analisti, che comunque si muove, non è che adesso è la decisione finale che hanno, da qua a giugno ha voglia cambiare idea, però ecco, per ora quello che gli analisti pensano e quindi una fase un po' molto incerta, molto di stallo, ancora non si capisce. Ed ecco perché i grafici sono un po' lì, fermi sui massimi, che ancora non sanno bene dove andare. Allora, direi che possiamo passare a un po' di news su Bitcoin. Tra l'altro, se siete arrivati fin qua, lasciate un bel pollice, lasciate una bella iscrizione, adesso che siamo a 10.000, è tutto un gioco da fare insieme. Vediamo quanto ci metteremo ad arrivare a 100.000, sono molto curioso. Vorrei farlo entro la fine dell'anno, sarà difficile barra impossibile, ma perché no? Perché non provarci? Quindi, con il vostro supporto, ce la possiamo fare, credo in voi, credo in voi. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un po' di notizie, a livello di Bitcoin. Allora, Bill Hackman, che per chi non lo sapesse, è un plurimiliardario, un gestore di fondi, veramente in gamba, veramente forte, ogni volta che parla, insomma, è sempre bello ascoltarlo, e lui dice una cosa interessante, dice, ecco qua uno scenario che mi sembra di avere, vi dico solo, che conclude con la frase, forse dovrei comprare dei Bitcoin. Perché? Perché lui dice, l'innalzamento del prezzo di Bitcoin farà arrivare più aziende di mining, ma più aziende di mining faranno costare di più il prezzo della corrente elettrica, perché consumeranno energia. E se aumenta il prezzo della corrente elettrica, aumenta anche l'inflazione. Ma se aumenta l'inflazione, cos'è che ne risente? Le valute fiat. E che cos'è che potrebbe aiutare contro l'inflazione? Bitcoin. Allora compro Bitcoin, ma il prezzo sale. E allora voglio nominare di più. E allora si consuma più energia. Cioè, avete capito? Il suo ragionamento, diciamo, ovviamente in un in un arco temporale grande, enorme, e con tutte le dovute, come si dice, non precauzioni del caso, ma insomma con tutte le dovute virgolette del caso, questo è un po' un ciclo che lui si aspetta e dice, cavolo, effettivamente questo potrebbe portare ad un continuo innalzamento di Bitcoin, perché è un bene scarso che in più viene prodotto con qualcosa di scarso che aumenta l'inflazione, quindi diminuisce il potere d'acquisto delle valute, e quindi, insomma, è come se si stesse auto incrementando ed è un circolo vizioso che tende a salire. Al di là di quello che pensa lui, sicuramente un attore del suo calibro che di nuovo inizia a parlare di Bitcoin è questa tanta roba. Cioè, vi ricordo, questo è un blu rimiliardario, gestore di fondi veramente potente e quindi fare molta, molta attenzione anche a quello che dice Bill Ackman, non per prendere decisioni operative ovviamente, ma perché di nuovo è un altro attore che potrebbe portare grandi capitali e quindi tutte belle notizie per il prezzo di Bitcoin. Abbiamo poi, intanto questa cosa la teniamo da parte, che poi ci faremo anche un Reels, uno Short, ce la teniamo lì. Abbiamo BlackRock supera MicroStrategy con la quantità di Bitcoin detenuti. In realtà poco importa, nel senso sono due cose totalmente diverse. BlackRock li tiene per i suoi utenti, non è direttamente BlackRock che li sta comprando, mentre MicroStrategy li ha lei, li ha comprati i MicroStrategy. La cosa interessante però è sapere che BlackRock e Fidelity, insomma, gli ETF, hanno comprato circa 6500 Bitcoin al giorno da quando hanno aperto. Cioè, cose folli, cose folli, cifre folli, 6500 Bitcoin al giorno, 6800, roba del genere, cioè, senza senso, senza senso. Questa cosa qua, tra l'altro, ve l'ho riportata per ricordarvi che esiste un sito bellissimo chiamato Bitcoin Treasury, lo trovate qua a BitcoinTreasurey.com ed è molto interessante perché vi fa vedere tutte le entità che detengono Bitcoin. Ad oggi, vedete che la quantità di Bitcoin detenuti da compagnie pubbliche, compagnie private, ETF e countries, quindi nazioni, è quasi il 12%. Cioè, dottori, qua inizia a salire la scarsità, eh? Iniziano a mancare i BTC al mercato tra un po', con quasi il 5% detenuto solo dagli ETF, cioè, io mo, non vorrei spaventare nessuno, ma questi continuano a comprare, Bitcoin continuano a togliersi dal mercato, eh? Poi, quando non ce n'è più, non venite a piangere, non li trovano, non so dove comprarli, costano troppo, eh, eh, quando c'erano, non me li calcolavate, adesso che ci sono, eh, mi dite, ma no, non lo so, eh, lì, lì è su di voi, lì è su di voi, not a financial advice, ognuno faccia le proprie ricerche. Insomma, qua, trovate su questa pagina tutto quello che possiedono le varie compagnie pubbliche, tutto quello che possiedono le varie countries e governi, vedete USA, Cina, UK, Germania, Ucraina, bla bla bla, qui trovate quello che veniva detenuto dalle compagnie private, MTGOX, Tether, bla bla bla, gli ETF, Grayscale, BlackRock, insomma, qua trovate veramente tutto, le compagnie di mining, così potete farvi un po' un giro, e anche sulla DeFi, c'è qualcuno che tiene anche i rapid Bitcoin inconsciamente sulla DeFi. Allora, allora, vi voglio far vedere, vi voglio far vedere, questa cosa anche la teniamo da parte, poi ci facciamo un rilzino, El Salvador, 74 milioni di profitto, più 60% da quando è iniziato a comprare Bitcoin, vedete, El Salvador ha comprato Bitcoin praticamente solo ai massimi, però, vedete, ecco, quando mi si chiede, Marco, ma cosa faccio col mio pack? Ma lo fermo, non lo fermo? Come mi comporto? Allora, MicroStrategy ha iniziato a comprare praticamente solo, MicroStrategy, miau, El Salvador ha cominciato a comprare praticamente solo ai massimi, la gran parte dei suoi investimenti sono stati fatti i massimi, ma con il fatto che ha investito anche in bear market, ha fatto, diciamo, tre acquisti, a 30, a 20 e a 16, ora è in profitto, perché il prezzo medio d'acquisto, vedete qua, il Total Dollar Cost Average, è rimasto qua, intorno ai 45 mila, benché abbia fatto un botto di acquisti a 60, 50, 48, quindi, quando fate un pack, lo capite che è inutile fare timing, perché nel lungo periodo, vedete, se voi mantenete la vostra strategia, alla fine, con il costo che avete, il, diciamo, le performance sono, sono comunque positive, e tanta, tanta roba, quindi MicroStrategy, ma perché MicroStrategy, porca miseria, tanta, tanta roba, El Salvador, che ha continuato a comprare i suoi bitcoin, e adesso, insomma, parliamo di una nazione, che fino all'altro ieri, non era niente e nessuno, era un buco dimenticato da Dio, nel nulla, oggi El Salvador, sappiamo dov'è, sulla cartina geografica, se non lo sapete, andate su Google Maps, lo trovate, è facile, e guardate qua, che roba, insomma, 74 milioni, di attivo, per questo paese, sul suo investimento in bitcoin, che poi, non è nemmeno un investimento, quasi più una conservazione del valore, che però ha guadagnato valore, e tantissima roba, se pensate che, se avesse tenuto tutto in dollari, sarebbe sceso, invece, in bitcoin, e salito di 74 milioni, questa cosa fa impressione, quindi, tantissima roba, complimenti a, Buki, Ed El Salvador, nuovo hardware wallet, in arrivo, ve ne parlerò, non appena, sarà un po' più ufficiale, ma, insomma, il grande Aleco Sfillini, che, insomma, è italiano, è sviluppatore bitcoin, veramente, veramente in gamba, hanno rilasciato questo nuovo hardware wallet, in maniera totalmente open source, adesso lo stanno andando a, a produrre, la cosa interessante è che, uno, allora, vi faccio vedere il video, mentre parlo, tolgo magari l'audio, questo è l'hardware wallet, che funziona totalmente tramite NFC, quindi è totalmente, come si dice, air-gapped, non si inserisce da nessuna parte, non c'è un USB, funziona direttamente, solo col telefono, appoggiandolo al telefono, vedete, lui riconosce il wallet, e voi potete far tutto, semplicemente, con questo bottone, che c'è lì sopra, per inviare le transazioni, o poi comunque, nel caso, anche ricevere bitcoin, ed è insomma, un hardware wallet, di concezione, completamente diversa, la cosa interessante, è che si può, già prenotare, allora, eccolo qua, costa, mi pare, eccolo qua, 90 euro, adesso, io probabilmente, farò, se non oggi, comunque, non appena riesco, delle campagne, mi piacerebbe lanciare, delle campagne su paypal, di raccolta fondi, dove comunque, io mi impegno, a mettere, magari, metà, e l'altra metà, magari, la mette la community, quindi, voi che guardate questi video, un euro a testa, due euro, cinque euro a testa, dieci euro, ognuno mette quello che si sente, e quando raggiungiamo la cifra, ripeto, io copro metà, l'altra metà, la può coprire la community, e così, poi, io compro queste cose, e le recensisco per voi, e quindi, facciamo un video tutti insieme, mi piacerebbe farlo, sia su questo hardware wallet, che è qualcosa di totalmente diverso, sia su tantissime altre cose, che mi avete chiesto di recensire, ma non ho mai comprato, e se mi metto a comprare tutto, divento povero, nel giro di due giorni, però in questa maniera qua, secondo me, ha senso, perché c'è un interesse, da ambe due le parti, oppure, potrei addirittura, cioè, potrei mettere che, fate tutto voi, io non metto niente, però poi il regalo, l'hardware wallet, e non me lo tengo, non lo so, vediamo, secondo me, la soluzione metà e metà, è la cosa un po' più interessante, che ci sta, la vedo la più trasparente di tutte, non solo su questo, vorrei anche farlo, con un nodo bitcoin, mi piacerebbe lanciare, un nodo bitcoin, quando tornerò in Italia, e quindi insomma, adesso, probabilmente lancerò queste campagne, non appena ho tempo, di sistemarle, e poi vi farò sapere tutto, quando le ho lanciate, e voi insomma, mi fate sapere, se l'idea vi piace, o non vi piace, allora, altre notizie, bitcoins, kimchi, kimchi premium, non so come si pronuncia, comunque, ve la faccio breve, in Corea del Sud, è difficilissimo comprare bitcoin, perché c'è un botto di regole, e quindi bitcoin, costa il 10% in più, che comprarlo nel resto del mondo, questo indicatore, misura, quanto questa differenza, è grande o piccola, adesso siamo al 10 e qualcosa per cento, mi pare, 10.32%, il che significa, diciamo, FOMO, più è ampia la differenza, più significa che le persone, vogliono comprare spasmodicamente, bitcoin in Corea, e quindi, significa un po' più FOMO, se non mi sbaglio, siamo, eccolo qua, al massimo dei 27 mesi, quindi significa che su bitcoin, c'è tanta tanta FOMO, notizia, negativa, non è positiva, quando succedono queste cose, non sono notizie belle, perché solitamente, vuol dire che stanno entrando gli ultimi, io, tra l'altro, vi suggerisco, caldamente, di andare a guardare gli ultimi video, eccolo qua, come anticipare i grandi movimenti di vendita, qua vi parlo proprio di come poi stanno arrivando i big a vendere, e noi, rimaniamo, col lucerino in mano, se entriamo in questi momenti, quindi, ve lo strastra straconsiglio, altra cosa, cosa abbiamo, giornata da record per i miner, è la seconda più grande giornata, guardate questa piccolissima riga viola, non questa qui enorme, questa è la riga, semplicemente, che dice lo standard, che dice la scala di misura, ma questa qui, un po' più piccola, è stata la seconda più grande giornata della storia, dove i miner hanno guadagnato, sui guadagni dei miner, vedete comunque che il trend è molto in rialzo, attenzione, attenzione, sta arrivando l'halving, guardate dopo l'halving, quanto si era partito in basso, adesso qua l'halving, mi sembra che era stato un po' prima, nel 2020 era stato ad apri, quando era stato? A maggio 2020, no? Ottobre, comunque, sa di fatto che con l'halving, probabilmente, vedremo questa cosa crollare, almeno nei primi, nei primi periodi, nelle prime settimane, o addirittura, non so, mesi, toccherà vedere quando il prezzo di bitcoin raddoppierà, però il trend è positivo, sta salendo, e quindi, insomma, il mining diventa un'industria sempre più profittevole, e sempre più interessante, e più il mining diventa interessante e profittevole, più bitcoin è sicuro, quindi, insomma, tanta roba per il livello fondamentale come bitcoin si sta sviluppando. Per i fan dell'alt season, ecco due notizie che vi potrebbero interessare, a me non tanto, me ne frega poco, però, insomma, per dovere di cronaca ve le riporto, Venture Capitalist, a febbraio, aumentano il numero di progetti nei quali investono il 14%, con un 6% di volumi, proprio di capitali, che entrano in più, tutto questo rispetto a gennaio del 2024, quindi banalmente, cosa sto, cosa ho cliccato, ok, quindi banalmente quello che sta succedendo, è che stanno iniziando a buttare sempre più soldi, vedete qua, la maggior parte nelle infrastrutture, poi abbiamo 17% NFT game, il 44% su Web3, insomma, stanno mettendo un po' di soldi sui progetti crypto, quindi come l'anno scorso abbiamo visto, è Solana, è Algorand, è Polkadot, è Matic, raccogliar soldi, quest'anno vedremo un po' la stessa cosa, chissà se lo vedremo sugli stessi progetti oppure no, questo è tutto da scoprire, sta anche aumentando da parte dei retail l'interesse, vedete che in 90 giorni il traffico che abbiamo su CoinMarketCap e CoinGecko è in aumento, è in aumento anche il traffico su CryptoExchange, la cosa interessante è che non siamo ancora ai livelli dell'estate del 2022, dove comunque il bear market già aveva colpito, però ancora c'era un po' di euforia, perché ancora si era lì intorno ai massimi, e quindi vedete che ancora c'è spazio di manovra, abbiamo ancora modo di arrivare, ovviamente poi l'obiettivo è quello di rompere questi massimi di interesse, perché se il mercato continua a crescere, continuano ad esserci sempre nuove persone, però ancora c'è margine rispetto al passato, e quindi questo cosa vuol dire? Trend e rialzo, arrivano persone, c'è ancora margine, quindi ancora potremmo vedere polli che arrivano, adesso io li chiamo polli, poi magari diventano milionari e mi comprano, mi mettono in tasca, però comprare adesso non è sicuramente la cosa più intelligente, non che non vada fatto se avete un pieno di accumulo per il lungo periodo, ma se volete investire solamente per il breve periodo, e non sapete quello che state facendo, allora non è un ottimo momento. e la chiudo qua, che se non ogni volta mi ripeto. Andiamo a chiudere, poi manca pochissimo, tra poco adesso andiamo a fare l'estrazione, preparatevi, andiamo a chiudere con un po' di notizie interessanti, il nostro amico Larry Fink, che si mette praticamente a difendere Bitcoin, dicendo è uno strumento contro i governi, che lo farei sentire, ma tanto in inglese, insomma, vabbè, allora, non so se... Ascoltate adesso, praticamente dice, se avete paura di una nazione nel quale il governo vi controlla, ed ecco perché la Cina potrebbe aver banato Bitcoin, e se avete paura che la vostra nazione possa devaluare, possa devalorizzare, comunque possa ridurre il potere d'acquisto della vostra valuta, allora Bitcoin è la soluzione. E allora l'intervistatore gli fa, ah, tipo noi, no, che stiamo riducendo il potere d'acquisto del dollaro, lui dice, non voglio andare lì in questo momento, ridendo per dire, eh, effettivamente, e quindi, insomma, lui che si mette a difender Bitcoin, così, tra virgolette, a spada tratta, dicendo, è una soluzione contro la censura, contro i governi, è tantissima roba, ricordiamo che comunque Larry Fink non è uno scemo, non è che perché gestisce BlackRock, allora, sei cattivo, fai l'interesse solo dei ricchi, insomma, avrà il suo bel cervello Larry Fink, soprattutto per gestire BlackRock, e quindi è molto molto sveglio, e sicuramente adesso, che sta anche capendo Bitcoin, è un'arma veramente potente, nel nostro arco, allora, cosa abbiamo? Cypherpunk Day, è stato il 9 marzo 1993, infatti, vabbè, questa notizia storica, esce il The Crypto Anarchist, no, scusate, esce il Cypherpunk Manifesto, eccolo qua, il 9 marzo del 1993, e quindi, insomma, nasce tutto il movimento Cypherpunk, che poi ha dato vita a Bitcoin, non ci sto troppo su questa notizia, perché? Perché se andate sul mio sito, sul mio canale YouTube, andate su Playlist, c'è una Playlist di 21 video, chiamata la storia completa di Bitcoin, e qua vi racconto tutto, 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 vita, morte e miracoli, di Bitcoin, quindi, insomma, guardate pure qua, quello che succede, e vi racconto tutto sul Cypherpunk, Cyper, Cyperpunk, Cyperpunk, non lo so, Cypherpunk, 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 la cosa interessante, così, piccola chicchetta, nota di colore, è che a un certo punto, gli Stati Uniti, avevano dichiarato, illegale la criptografia, l'avevano dichiarata, un'arma, e quindi Cypherpunk, hanno iniziato a stampare queste magliette, con sopra del codice, dicendo questa maglietta, è una munizione, perché di fatto, tu stavi trasportando armi, se trasportavi criptografia, e quindi, insomma, era nata poi una guerra, con i Cypherpunk, che dicevano la criptografia, deve essere libera, perché ci dà la possibilità, di essere più libri, di esprimerci, insomma, bla 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 bla, poi l'America a un certo punto, ha detto sì, effettivamente è una cazzata, non posso bannare del codice, anche se poi ci ha riprovato in futuro, ma insomma, questa è un po' la storia, del perché esistono magliette, con scritto, warning, this shirt is classified, as munition army, may not be exported, from the United States, or shown at foreign nations, vabbè, bellissime cose storiche, ok, ultimissima notizia, e ci siamo per l'estrazione, diminuiscono, diminuisce la supply, dei bitcoin, nelle mani dei long term holder, quindi delle persone, che hanno effettivamente, bitcoin da tanto tempo, vedete che ce l'abbiamo già avuto nel 2013, nel 2014, nel 2018, alla fine del 2021, quando scaricano tutte queste posizioni, i long time holder, quindi quelli che tengono da tanto tempo, solitamente stiamo vedendo un picco, perché questi sono quelli che hanno, i profitti più interessanti, e si vogliono andare, a prendere questi profitti, li vogliono andare a portare a casa, e quindi vedete che c'è un accenno, all'aumento di questa vendita, di queste persone che hanno bitcoin, da tanto tanto tempo, quindi un segnale di nuovo, che non ci fa troppo ben sperare, per una continuazione del trend, ma quanto più per un'inversione, è un'indicazione, non è un segnale, fate comunque attenzione, non vuol dire che dopo domani scende, però il trend, per ora, sembra proprio essere quello, di iniziare a prendere profitto, e scaricare un po' di posizioni, vedremo, io in realtà sarei contento, così il prezzo scende un po', e possiamo tornare ad accumulare, a prezzi un po' più umani, però insomma, vedremo, vedremo quello che capita, allora, Beat Lyrics, ve ne parlo negli shorts, non c'è tempo, se no andiamo lunghi, poi lo scoprirete, sito web, ho messo un sacco di cose nuove, interessanti, vi consiglio di andarvela a guardare, tra cui questa nuova homepage, non posso prometterti, che con i miei corsi, diventerai ricco, ma niente, ma niente, fine, cioè non te lo posso promettere, non so se puoi diventare ricco, quindi, a tuo rischio e pericolo, solo io posso avere un sito, con questa intro, allora, andiamo a fare, l'estrazione, siete pronti, io vi dico già, prima di, far qualsiasi cosa, spolliciate, ed iscrivetevi, così mi aiutate, a mantenere questo canale, vi ricordo, che potete utilizzare, in descrizione, i link da affiliato, con il quale, io ci guadagno, quindi, mi aiutate a sostenere, in maniera gratuita, questo canale, ma non solo, perché ci guadagnate anche voi, e quindi vi ricordo, i due siti principali, anzi, diciamo, i tre siti principali, sono, Bing X, se volete fare, trading di criptovalute, aperte questa parentesi, trading, speculazione, non è un exchange, per detenere i fondi, no, non si fa, non si tengono i fondi fissi, sugli exchange, c'è il rischio di perderli, eh, dove me li conservate, me li conservate, qua, sul, Bitbox, 0, 2, andate su, Bitbox Swiss, slash, Costanza, e vi puppate, il 5% di sconto, sull'acquisto del Bitbox, il miglior hardware wallet, in assoluto, e per farvi vedere, che non sto scherzando, che il migliore, Costanza ce l'ha qua, Costanza ce l'ha qua, eh, perché io vi consiglio solo, quello che utilizzo seriamente, se no, non ve ne parlerei, quindi ve lo straconsiglio, ipervolentieri, miglior hardware wallet, sul mercato, e dove li comprate, però i Bitcoin, da mettere nel Bitbox, perché va bene, che qua su Bing X, fate trading, senza che YC, e quindi fate trading, senza che nessuno, si faccia i fatti vostri, ma i Bitcoin, Costanza vi consiglia, di acquistarli qua invece, su, ah, ah, Relay, Relay, che indovinate un po', con il codice Costanza, sconto, a vita, a vita, sulle commissioni, quindi, Relay, per fare piano d'accumulo, su Bitcoin, trovate, ovviamente, sul mio canale YouTube, andate qua, e scrivete, Relay, se no, Relia, non trovate niente, se però scrivete Relay, se però scrivete Relay, scritto giusto, perché, oh, all right, trovate un tutorial, completissimo, di come funziona Relay, cioè, veramente, cioè, il più completo di questo, non posso farlo, vi ho proprio fatto vedere, cosa cliccare, dove cliccare, una bomba, applicazione 10+, per fare piano d'accumulo, in Bitcoin, detto questo, passiamo all'estrazione, oh, adesso faccio l'estrazione così, senza che vi vedete lo schermo, così posso, posso barare, allora, andiamo qua, mostriamo lo schermo, signore e signori, primo buono, da 25 USDT, va in mano a, ah, devo cliccare di nuovo, va in mano a, a nessuno, dove devo cliccare, estrai, ah, ah, ok, estrai uno, vedete, lo sto facendo in diretta con voi, non so come funziona, estrai uno, oh, tadaaaan, ah, devo cliccare, e che palle però, io pensavo avessi finito, chiudo gli occhi, e chiudo gli occhi, stop, congratulazioni, ast2, chiocciola, gmail.com, allora, io mi segno questa mail, io non so chi sei, quindi me lo dovrò andare, adesso troverò il modo per contattarti, chiederò a, non lo so, a Bing X di mandarti una mail, o insomma, una notifica, qualcosa, hai vinto tu, quindi, insomma, se riconosci la tua mail, scrivimi, o scrivimi anche magari qua sotto nei commenti, scrivimi in privato, scrivimi dove preferisci, probabilmente te lo ritroverai già nella tua home page, questa cosa qua di Bing X, però insomma, curioso, curioso di fare tutta questa cosa in diretta, hanno fatto una bella piattaforma. Allora, andiamo a destrarre quindi anche quello da 50 USDT, signore e signori, ruoli di tamburi, o, G, 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 come fa un cognome a finire con la G? Come? Non me lo spiego, non me lo spiego, cioè, solitamente l'email è tipo nome e cognome, e però quando finisci con la G, e un cognome, abbiamo una persona overseas, qualcuno che arriva da fuori, allora, complimenti anche a te, che non so chi sia, complimenti per questo bonus, e, ultimo bonus, il più grande, 75 dollarozzi qua, pronti per voi, attenzione, andiamo a vedere, andiamo a vedere, clicchiamo, stop, l'ho otto, l'ho otto, l'ho otto, complimenti, complimenti, ti sei portato a casa 75 dollari, cioè, tanta tanta roba, adesso, non so come vi daranno queste 75 dollari, 50 dollari, 25 dollari, sono sincero, non so se vi daranno direttamente USDT sul conto, o vi daranno il buono, per poter far trading completamente, quindi, a costo zero, completamente con, con il, con il bonus, fatemi sapere, se vi siete riconosciuti, ma se non volete farvi svelare, cioè, se non volete svelare la vostra identità, non lo scrivete, però, se invece non me ne frega niente, scrivetelo qua sotto nei commenti, e, insomma, è stato, è stato divertente, fare questo, questo contest insieme, e, insomma, più voi continuate a utilizzare il link, più, questi, queste entità, continueranno a darmi modo, di fare questi contest, queste cose, alla fine, dove ci guadagniamo tutti, perché, voi guadagnate i soldi, io ci guadagno, che facciamo il contenuto, e si iscrivono persone, l'exchange guadagna, perché le persone utilizzano l'exchange, quindi è un win to win to win, detto questo, io direi che ci possiamo salutare, grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato, grazie mille a tutti quelli che sono arrivati fin qua, vi ricordo che, potete supportarmi gratuitamente, con un like, un'iscrizione, potete supportarmi economicamente, e supportare la vostra formazione, con le consulenze, tra l'altro, Marco Costanza, io vi ricordo che qua, il buon, marcopostanza.it, sulla sezione consulenze, vi fa anche la prima ora, totalmente scontata, questo proprio perché ci tengo, ad avervi insieme, e a poter discutere insieme a voi, qua potete prenotare direttamente, la vostra lezione, avete qua il calendario, che senza che io debba far niente, voi potete prenotare, quando vi pare e piace, e quindi fate tutto in completa autonomia, se poi ci sono problemi, insomma scrivetemi solo prima, almeno 48 ore prima, e spostiamo la data a qualsiasi cosa, dottori, grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo domani con un nuovo video, mercoledì con un nuovo aggiornamento sui mercati, e in bocca al lupo, alla prossima. Grazie a tutti.